Ma la domanda è, WP, avrà risolto o no la condensa? Bene ragazzi, ciao a tutti e bentornati a un nuovo video del Santone dello Svapo, oggi vi parlo di WP Nevi, spaventoso, o Navi, sarebbe Nevi se vogliamo essere precisi, però ditelo come vi pare, prodotto molto 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 interessante, sul quale io ho un'altissima aspettativa, aria anche interessante, poi ve la spiegherò bene, ora andiamo a vedere da vicino, poi prova di svapo e considerazioni finali. Ecco qui ragazzi la confezione della Nevi o Navi di WP, vediamo subito le principali caratteristiche da questa parte, 3 mele di capacità questo modello, ma c'è anche il modello TPD da 2, inoltre abbiamo di nuovo il contapaff per due settimane con il relativo grafico, ovviamente gen chip all'interno, colore inchiostro, come si può vedere anche dalla foto sulla scatola. Qui abbiamo ulteriori caratteristiche, quindi abbiamo il tiro dell'aria che si può regolare, poi troviamo pneumatic switch che capiremo bene che cos'è, perché io onestamente dal di qui ancora non riesco a intendere, PNP coil, ovviamente come abbiamo visto prima il contapaff 40 watt e il gen chip. Aprendo la scatola troviamo il prodotto che però vedremo nel dettaglio successivamente. Al di sotto del prodotto troviamo questo pacchettino con 3 step indicati, il primo è inserire la coil, il secondo è inserire il liquido all'interno della pod, terzo step inserire la pod e svapare. Mi raccomando aspettate 5 minuti prima di far partire il sistema di modo che la coil si possa impregnare bene con il liquido. Aprendo questa scatolina ragazzi abbiamo all'interno i manuali, se riesco a toglierli, adesso proviamo ad andare a aprire da quest'altra parte, di qua iniziamo dalle coil. Le coil ragazzi sono rispettivamente da 0,45 ohm da 25 a 35 watt e da 0,6 ohm da 20 a 28 watt. L'interno delle coil è a mesh per entrambe, cambia leggermente il valore resistivo ma sono comunque due coil da flavor oppure restricted flavor. Però come vediamo in sovraimpressione ragazzi su nevi possiamo montare 5 coil differenti, una da 0,3, una rigenerabile per tiro di guancia oppure restricted flavor, un'altra a tiro di guancia da 1 ohm, un'altra invece la R1 che vediamo in basso a sinistra da 0,8 ohm per tiro di guancia oppure restricted flavor e quella da 0,6 per un flavor. All'interno del pacchetto troviamo anche della silica gel, cavo usb micro usb per ricarica, il tagliandino che ci indica che c'è il gen chip all'interno e finalmente ragazzi come vi ho detto prima abbiamo le istruzioni e la carta di garanzia. E ora ragazzi iniziamo a guardare il prodotto da vicino finalmente, abbiamo il tasto fire, un display OLED da 0,96 pollici, tasto meno, tasto più, presa micro usb per ricarica, ovviamente ci sono i pannelli in resina, il corpo della box ragazzi è in metallo, al di sotto abbiamo i fori di sfiato e girandola possiamo leggere gen chip designed by WPU made in Cina, marchio CE e smaltimento. Da questa parte leggiamo la scritta WPU e andando a togliere la pod possiamo vedere i due pin all'interno, i magneti e questo beccuccio che serve per l'attivazione automatica. Al di sotto della pod abbiamo altri due magneti che servono per far presa con quelli che abbiamo visto prima, il forellino dove andrà inserito il beccuccio per l'attivazione automatica, ovviamente la plastica da andare a aprire per la ricarica e il foro per la coil. Ora prendo la coil da 0,45 ohm, gli vado a mettere dentro il liquido e vado a ricaricarla a pod. Prendo l'alfa dell'assista e vado a bagnare la coil. Una volta bagnata la coil la inserisco a pressione e ora posso andare ad inserire il liquido all'interno del tank. Chiudo ovviamente il forellino, in questo caso devo dare anche un'asciugata e a questo punto ragazzi posso rimontare la pod. Da questa parte invece, cosa che non vi avevo fatto vedere prima, leggiamo la scritta NAVI SPARK YOUR LIFE. Qui abbiamo la regolazione dell'aria, in questo caso è totalmente aperta oppure così è chiusa. Ovviamente quando è chiusa è per le coil da guancia, io la terrò aperta perché sto usando coil da flavor. La box è alta 96 mm, larga 34.5 e spessa appena 18.3 per un peso complessivo di 105 grammi. All'interno monta una batteria da 1500 mAh e con 5 clic sul tasto fire andiamo ad attivare. Possiamo vedere ragazzi che il display è esattamente quello della Vinci sempre di WP. Quindi abbiamo l'indicatore della batteria, i watt, ovviamente il lucchetto che ci indica se il display è bloccato oppure no. Puff, tempo. Ora siamo sul modo automatico e power, poi abbiamo gli ohm e al di sotto abbiamo l'indicazione dei volt che andiamo ad utilizzare. Facendo tre clic sul tasto fire andiamo a cambiare i modi. Vedete che ora andiamo in power classico, quindi dovremmo spingere il bottone per attivarla. Con altri tre clic andiamo solo in automatico, quindi se spingiamo il bottone non si attiva. Io la terrò in automatico e power. Ovviamente con i tasti meno e più andiamo a selezionare la potenza che desideriamo. Arrivando a 35 watt si attiva subito la protezione max power che ci dice che se andiamo oltre i 35 watt bruciamo la resistenza. Cosa assolutamente intelligente da parte di WP mettere questa protezione. Quindi ragazzi con questa coil andiamo da un minimo di 5 a un massimo di 35. Il dispositivo funziona però per un massimo di 40 watt. Il prodotto si carica 5 volt per 1 ampere e il range all'interno del quale legge le resistenze è da 0.3 a 2 ohm. Inoltre ragazzi il dispositivo ha tutte le protezioni del caso, quindi sul riscaldamento tiro troppo lungo. Come abbiamo visto la protezione da vattaggio troppo alto anche da voltaggio troppo alto. Un dispositivo effettivamente sicuro, ormai il GenChip sappiamo che funziona bene. Quindi ragazzi staremo a vedere se il problema della Vinci è stato risolto con questo stratagemma e con queste coil. Il problema della Vinci qual era? E che pisciava liquido a dei livelli esagerati. Quindi ragazzi l'andrò a provare e noi ci vedremo dopo ovviamente per la prova di svapo e le considerazioni finali. Guardate questa eh, voi mettete il dito qua. Non è per farle note eh, perché qui c'è una fessurina che se voglio mettete il dito andate a restringere leggermente il tiro. Se invece non glielo mettete avete il tiro più aperto possibile. Molto molto interessante ragazzi. Ho fatto un po' di tank con questo prodotto e vi dico che non ha perso una goccia. È chiaro che potevo andare avanti due settimane a vedere se alla terza pisciava, ma il video deve uscire. Quindi ragazzi per le prove che ho fatto io i problemi di condensa sotto sono totalmente risolti. Un attimo che c'ho il gatto che sta dando di matto fuori. Vedete di chi è la colpa? La colpa è la sua. Del gatto fucile. Vedete il gatto fucile. Lui è il gatto fucile. Vai Forrest. Perché stai di sotto? Allora adesso te stai qui. Basta. Stai fermo. Stai fermo. Già che mi hai riempito di peli. Hai capito? Basta. Adesso. Guardate Forrest. Ecco Forrest. Saluta Forrest. Bene. Quindi siccome il gatto rompeva le balle, adesso lo vado a riportare fuori. Quindi ora che sono pieno di peli di gatto posso continuare. Scusate l'interruzione. Nevi. Beh ragazzi interessante. L'aria interessante. L'aria anche questa doppia funzione chiusa o aperta. Interessante perché la usate per guancia tutta chiusa. Per flavor tutta aperta. La possibilità di montare un'infinità di coil. Soprattutto quella rigenerabile che purtroppo non ho all'interno. Spero che me la mandino e spero di farvi anche un video in futuro ragazzi. Però veramente un prodotto che funziona da dio. L'unico peccato per me di questo prodotto che cos'è? È che effettivamente se arrivate a fine tank. Lui non ha il controllo della temperatura e quindi non vi evita di steccare. Dovete stare attenti. Questa è ovviamente una fighetteria che però io vorrei fosse implementata in questo prodotto. Il menu funziona nella stessa identica maniera del Vinci. Uguale. Quindi basta che fate quello che facevate di là. Per bloccare il display premete tasto fire e tasto più. E lo bloccate. Ovviamente come lo bloccate lo sbloccate anche. Per andare a pulire invece il contapuff tasto meno e tasto fire ok. Basta non c'è veramente altro da dire ragazzi. Se non che è costruita veramente da dio le finiture sono ottime. E effettivamente questa non perde una goccia. L'aroma è ottimo. La cremosità del vapore è ottima. Proprio funziona veramente bene ragazzi. Mi piace sta cosa che tappando col dito potete scegliere se tenere l'aria un pochino più aperta, un pochino più chiusa. Ovviamente la sua regolazione dell'aria top è questa qui in base alle coil che gli è andata a montare. Non sono riuscito a provarla con le coil da guancia perché non me le hanno mandate. Anche quelle spero di farvele vedere in un altro video ragazzi. Però vi dico che il prodotto così com'è per lo svapo da flavor è veramente micidiale. Quindi si becca tranquillamente un 9,5. Si sarebbe beccato un 10 se avesse avuto anche il discorso del controllo delle temperature. Ok? Di modo che quando voi arrivate quasi a steccare lei limita automaticamente la potenza. Io ho fatto delle prove e ho visto che questa cosa effettivamente non sembra che ci sia. Quindi in occhio perché se ovviamente andate troppo in secca rischiate di fare dei tiri bruciando la coil. Ma questo capita con tutte le sigarette elettroniche quindi non è una novità ragazzi. Quella che sto dicendo io è solo una fighetteria aggiuntiva che sarebbe ora dal mio punto di vista di implementare in tutti i prodotti esistenti. Ok? Perché basta veramente usare delle coil in acciaio e implementare un chip all'interno del circuito. Che detto così magari sembra una cavolata farlo un pochino più difficile. Però insomma le sfide del mercato adesso come adesso per me dovrebbero essere queste. Prodotto limitato per quanto riguarda invece la versione TPD a soli 2 ml. Questa qui è un po' una sfortuna però con la versione TPD e 2 ml se si svappate di guancia comunque riuscite a farci abbastanza. Per il flavor è un attimino più sfortunato. Devo essere sincero. Però ragazzi è un prodotto che va veramente da dio. Cioè per me qui hanno effettivamente stramigliorato la Vinci e questa è effettivamente meglio della prima Vinci che io ho provato. Ok? Perlomeno per quanto riguarda la comodità. Poi l'altra va bene aveva un pochino più di capienza di liquido. Però effettivamente ragazzi vi dico qui io di liquido non ne vedo realmente una goccia. Basta non ho altro a aggiungere prodotto strapromosso bravissima WPU e basta. Noi ci vediamo alla prossima vi ringrazio fatemi sapere cosa ne pensate in un commento se l'avete provata la volete provare non me ne frega niente insomma ditemi la vostra con l'ultima svappata vi saluto. Vi ringrazio vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto per rimanere aggiornati in relazione a tutte le nuove uscite nel mondo della sigaretta elettronica. Perlomeno per quanto riguarda il mercato italiano e ci vediamo alla prossima e che lo svappo sia con voi. Ciao ragazzi.